Benvenuti a tutti ragazzi, oggi voglio proporvi un tutorial su come prevenire il crash dell'iPhone a seguito della presenza del simbolo indiano. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito! Bene ragazzi questo è un tutorial dedicato ai possessori di iPhone che non sono ancora stati colpiti dal crash dell'iPhone quindi del sistema operativo iOS a seguito della lettura da parte del vostro dispositivo del famoso simbolo indiano che tanto sta attanagliando il web in questi ultimi giorni. Le procedure di ripristino di un iPhone quando è andato in crash a causa di questo simbolo indiano è vero sì non sono difficilissime ma per chi non è abituato a trafficare con iOS iPhone non è molto intuitivo applicare tali tutorial. La soluzione che vi propongo oggi io è quella di installare tramite il wifi della vostra connessione adsl di casa la release 11.3 beta 2 che è completamente immune al contatto con questo simbolo indiano. Un iPhone che non è ancora stato colpito può installare iOS 11.3 beta 2 semplicemente iscrivendosi al programma beta tester di Apple. Per diventare beta tester di Apple andatevi a vedere il video che io avevo già realizzato e di cui vi lascio il link in descrizione. Ve lo rissumo brevemente a parole si tratta di abilitare il proprio ID Apple al programma beta tester di iOS. In questo modo il vostro iPhone riconoscerà le release beta di iOS. Si collega con Safari al sito il profilo beta tester di Apple una volta che uno è stato abilitato e il sito installerà direttamente sul vostro iPhone il profilo beta tester. Dopodiché andando in generali e aggiornamento software vi verrà rilevata la nuova release 11.3 beta 2 che è completamente immune. Come potete vedere ragazzi il mio iPhone sta direttamente scaricando la versione 11.3 public beta 2 che è quella che vi dicevo essere completamente immune al simbolo indiano. Una volta scaricata la versione 11.3 beta 2 l'iPhone si riavierà e installerà questa nuova release e sarò completamente immune dal crash dovuto alla presenza del simbolo indiano che ripeto può arrivare tramite sms tramite whatsapp tramite altri programmi di messaggistica. Bene ragazzi io avrei anche finito spero che questo video vi sia stato utile se lo avete ritenuto tale diffondetelo su tutti i social mettete tanti mi piace ma soprattutto iscrivetevi al mio canale l'unico modo per supportarmi veramente. Noi ci vediamo al prossimo video